Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora sono qui con questa formina che ho creato preventivamente perché oggi voglio creare un sapone, un sapone al profumo di lavanda con il kit che vedete alle mie spalle ma davanti a me e davanti alla nostra formina con questa bella figura di una bimba, make your own bath stuff and bombs proprio per creare dei saponi, saponi profumati e oggi faremo proprio questo con la nostra formina. Vedete che ho un beccherino, ho del sapone che devo fare sciogliere, ho dell'essenza alla lavanda, poi ho un piccolo cucchiaino per girare e la nostra formina ovviamente con la bimba. Allora per prima cosa prendo il sapone, lo metto nel beccher e lo lascio nel microonde giusto due minuti, non deve scaldarsi troppo, attenzione perché se dovesse scaldarsi troppo intanto non viene bene e anche il beccherino essendo di plastica si scioglie. Ecco qua ho lasciato proprio due minuti e mi raccomando guardate sempre, tenetelo d'occhio in modo tale da non rischiare. Ora cosa fare? Visto che si è sciolto aggiungo una o due gocce di essenza alla lavanda, mescolo il tutto un pochino, ok, e poi verso il sapone nella formina. E voilà! Eccoci qua, ora dobbiamo lasciare raffreddare, quindi lo metterei mezz'oretta nel frigorifero, ma non prima di averlo fatto un attimo raffreddare fuori frigo. Eccolo qua, l'ho messo mezz'ora in frigorifero dopo averlo fatto raffreddare e questo è il risultato. Speriamo venga bene, insomma ora togliamo tutto e guardiamo insieme. Oh oh, è venuta veramente molto bene, bellissima! No, bellissima, bellissima la bimba, ma il nostro sapone, questo è proprio un sapone ragazzi, che abbiamo fatto con il kit Make Your Own Bath Stuff and Bombs. Vedete che è veramente venuto molto molto bene, assomiglia proprio al nostro personaggio Playmobil che ora abbiamo anche sotto forma di piccolo saponcino. Molto molto carino, un'idea molto carina, originale e simpatica, quindi magari sotto nei commenti scrivetemi cosa ne pensate, se vi piace questo kit, questo set, se pensate che possa essere un'idea originale e molto carina. Io aspetto di leggervi, come sempre, vi leggo sempre e aspetto anche i vostri like se il video vi è piaciuto e soprattutto se l'esperimento vi è piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo e alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!